buongiorno a tutti ragazzi aspettando che vi colleghiate perché oggi parliamo di un argomento molto interessante mentre vi collegate per chi non mi conoscesse sono edoardo renzi titolare della turbocharger world ideatore di due metodi unici in italia che è connect l'unico metodo che dona velocità senza aggiungere cavalli e turbo performance che è un metodo che attraverso l'innovazione e la ricerca permette di avere 30 per cento in più di portata d'aria sulle turbine modificata rispetto a prodotti analoghi sul mercato oltretutto sono presente nella motosport ho dato dimostrazione che ci siamo mentre tutti gli altri chiacchierano nei loro portili noi ci siamo messi in gioco anche nel motosport nel poter aiutare la ten job e nuovi servizi dedicati a voi come anche le scuole di pilotaggio con academy for drive oltre che fornire contenuti gratuiti del valore di 2.000 euro a chi dovessi entrare o almeno avessi requisiti già Emanuele avessi requisiti per poter entrare in uno dei metodi o nell'entourage della turbocharger world oggi parleremo di airbox in plastica o in carbonio mi hanno fatto questa richiesta di dare alcune informazioni tecniche a riguardo perché c'è un po di confusione nei vari forum ci sono molte informazioni contrastanti per quale possa essere la soluzione migliore o anche introduco anche i filtri a cono quindi i filtri aspirazione diretta collegatevi perché ci saranno alcune notizie importanti e sfaderò alcuni miti che tutti quanti cercano in di più che altro che più che cercare seguono ok c'hai fabio buongiorno vedo che vi state collegando piano piano intanto faccio un piccolo sondaggio nel senso ditemi voi nelle vostre auto che cosa avete montato ciao fame buongiorno fame è sempre presente ci saranno anche grandi novità con fame che è uno dei nostri clienti più appassionati è diventato anche un amico oltre che cliente perché abbiamo passato diverse vicende insieme vero fame per ci saranno anche da lui da parte sua delle novità molto interessanti che vedrete nei prossimi mesi prossime settimane prossimi mesi e parleremo oggi per chi è che si fosse collegato adesso di una differenza tra ad air box in plastica e wc oppure in carbonio o aspirazioni dirette quali qual è il migliore in assoluto e quali sono le differenze perché ci sono molte diatribe a riguardo allora iniziamo ciao aldo piano piano vi state collegando bravissimi allora premetto faccio una piccola premessa ossia che tutti i filtri tutti i filtri del che vengono forniti in carta nelle macchine originali sarebbero da cancellare immediatamente dalla faccia della terra perché non hanno senso assolutamente sono deleteri alle turbine bravo bravo aldo chi dorme non piglia cavalli questa molto carino il sono deleteri in sia per il motore che per le turbine soprattutto per le turbine quindi filtri in carta con micro filtranti appiccicati bianchi che si usano nelle nelle cucine per favore lasciamoli direttamente in cucina e non utilizziamo l'interno della nostra auto perché è questo perché la carta attende i fori della carta bravi spulciate spulciate fate like spolliciate 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 la carta di fuori della carta che ci sono i micro fuori della carta sono deleteri perché tendono a chiudersi a ostruirsi ostruirsi per via dell'umidità dello sporco che velocemente tende a coprire tutta la superficie del filtro questo è una purtroppo è un problema legato ai filtri dell'aria ma è legato anche alla stupidità delle case madri perché ci sono alcune case madri e qui lo so mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo che cambiano i filtri ogni 60 mila chilometri quindi una cosa impensabile e sembra che dico sembra quasi che lo facciano apposta per creare problemi sembra poi che loro abbiano delle loro ideologie a riguardo questo lascio completamente a loro nel compito di poter contrastare quello che dico però il dato di fatto è che il filtro dell'aria in carta blocca tantissimo l'aria già in originale quindi nuovo sia in aspirazione sia se viene messo di primo impianto sia anche dopo perché perché comunque il motore e la turbina hanno bisogno di respirare e il filtro in cotone oppure potete prendere anche quelle schiume spansa e quant'altro ognuno poi ha le sue ideologie porta sicuramente più aria il filtro in cotone apriamo e chiudiamo parentesi il non è assolutamente deleterio per quanto riguarda i debimetri la la parte deleteria siete voi perché perché l'errore che fate o che fanno i vostri meccanici o preparatori o fate direttamente voi è inzuppare completamente il filtro dell'aria di spray che viene fornito dai vari fornitori che viene dato dai fornitori se lo inzuppate e non lasciate il filtro per un po' di tempo fuori all'aria aperta in modo che l'olio si questo spray quindi l'olio all'interno di questo spray si espanda e si fissi bene con tutto il cotone voi lo fate aspirare soprattutto se l'enzuppate non c'è bisogno lo so che siete figli del faccio tutto subito non è così si prende il filtro dell'aria lo si lavo lo si pulisce si mette lo spray la sera il giorno dopo si mette direttamente il filtro all'interno dell'airbox in questa maniera avrete tutta la possibilità di poter far espandere l'olio nel senso ovviamente se non l'avete inzuppato completamente su tutto quello che è la superficie del cotone in questa maniera difficilmente ci sono queste problematiche e vi dico di più ad avvalorare quello che vi sto dicendo è proprio quando prendete il filtro dell'aria originale lo mettete non si sporca il debimetro si sporca sempre dopo immaginate il motivo però il filtro in cotone o altri filtri in cui si chiama espanso oppure quelli che non si puliscono che non esiste secondo me è un filtro dell'aria che non si sporca e che non si sporca o che non si pulisce perché comunque si respira dello sporco ed è normalissimo che ci sia una strada impolverata o meno comunque si respira dello sporco e quindi deve essere sempre pulito permette sicuramente un passaggio d'aria molto più ampio adesso iniziamo a parlare di qual è la situazione migliore o quali sono gli airbox migliori quindi quelli in plastica o quelli in carbonio premetto che il carbonio rispetto alla plastica ha due caratteristiche scherma di più le temperature ed è molto più leggero oltretutto gli airbox in carbonio o alcuni airbox in carbonio hanno dei disegni che tendono a massimizzare e migliorare la portata d'aria verso il condotto di aspirazione che stiamo parlando di macchine aspirate o turbo gli airbox in carbonio hanno la possibilità di essere modellati molto meglio rispetto a quelli in plastica o in pvc che molte volte sono standard è più semplice fare uno standard da montare dentro per quanto riguarda non mi soffermo a livello di forme non forme prodotti per discorrendo quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre all'interno c'è un filtro a cono o bicono o cono che sia mentre ci sono anche alcuni airbox in cui c'è un filtro in cotone verticale con una trombetta questa è una soluzione che non è male mi sembra che sia una... l'ho utilizzato più che mi sembra ed è una soluzione molto furba per arrivare a una via di mezzo tra filtro a cono e un airbox ma dove è la vera differenza? la vera differenza è che gli airbox in carbonio sono più esclusivi sicuramente rispetto a quelli pvc a livello di costi e molte volte vengono fatti per delle auto a livello di molto prestazionali macchine tipo RS3, TFSI, 2000 TFSI, Porsche, Ferrari e via discorrendo quindi c'è un certo studio e ricerca su quello che è il componente fornito poi dopo sicuramente le loro forme e le loro conformazioni permettono di incrementare più aria attraverso i vortici che vengono creati all'interno della airbox che spesso e volentieri su quelli in pvc oppure in plastica che si cerca il più possibile di risparmiare per poter mettere o proporre un prodotto che sia economico all'interno di quello che è il mercato sicuramente questo è studiato molto meno ciao Walter buongiorno anche a te quindi dirvi qual è la soluzione migliore a mio avviso se avete una macchina esclusiva proporrei quasi sicuramente un airbox in carbonio mentre se volete avere qualcosa di un pochettino più economico gli airbox quelli normali in pvc sicuramente il carbonio essendo più leggero e fa recuperare qualcosa a livello di peso e cosa non indifferente l'airbox in carbonio tende a schermare molto di più il calore rispetto a quello che è l'aspirazione a parità di posizione quindi evitate commenti se vedrete la diretta è anche indifferita di dire ah no io ho il mio scalda di meno è perché dipende dalla posizione che voi lo mettate è chiaro che se me lo mettete attaccato al motore che adesso succede molto spesso perché i vani motori sono molto stipati e quindi il motore entra giusto pelo pelo all'interno del vano motore gli airbox in carbonio sicuramente hanno una valenza maggiore rispetto a quelli in pvc detto questo possiamo parlare a livello di estetica a livello di estetica sicuramente quello in carbonio ha la sua scena che sia lucido o che sia per quanto ancora grezzo è una cosa che a mio avviso è bella esclusiva e soprattutto quando si apre il cofano da quell'immagine all'interno del vano motore che piace a tutti noi che è quell'immagine veramente racing per quanto riguarda invece su quello che è il campo motosport o come avete visto anche nel TCR siamo stati ieri in pista insieme a con Alessandro Tedeschini con i suoi piloti e con la Tenjob loro lavorano con l'airbox in carbonio e tantissime aziende dalla Simota, la BMC e la KPN hanno sempre al loro interno comunque degli airbox in carbonio perché questo? perché porta vantaggi perché porta vantaggi a livello di rendimento voi sicuramente vi starete chiedendo ah ma non c'è problema io metto un filtro a cono e siamo a posto vero, assolutamente è molto più economico il problema è che il filtro a cono fa peggiorare se non in certe condizioni particolari perché questo? perché l'airbox tende a creare dei vortici all'interno che migliorano il rendimento a tutti i regimi più o meno che siano mentre come accade poi anche gli airbox originali mentre per quanto riguarda il filtro a cono l'aria tende a essere molto caotica eccetto in determinate condizioni o al certo alcuni prodotti perché? perché ci sono alcuni prodotti che hanno delle particolarità ossia dove vengono collegati sul condotto di aspirazione o in cima in testa all'aspirazione hanno un pseudo effetto venturi questo sicuramente tende a ordinare meglio l'aria aspirata per garantire un miglior aspirazione ma soprattutto una migliore lettura da parte di quello che è il depimetro quindi ci sono dei se e dei ma il problema grosso qual è? è che in quelle aspirazioni dirette essendo l'aria molto disordinata solo in determinate condizioni o in determinati regimi si riesce ad avere un rendimento superiore ai medi e ai bassi o ai medi e medio alti regimi le cose sono molto più complesse e questa complessità genera una difficoltà per quanto riguarda l'aspirazione da parte della turbina questo che cosa porta? porta che sicuramente il turbo tenderà a soffrire un pochettino perché? perché il turbo quando è nel regime di turbo lag o quando sta iniziando a caricare già all'interno c'è del caos all'interno di quello che è la girante di aspirazione quindi non è possibile avere ancora più difficoltà nell'aspirare attraverso quello che è il filtro dell'aria ecco perché crea sì un effetto di risucchio bellissimo e vi dico la verità è spettacolare anche quando carica completamente ma aumenta quello che è il turbo lag e in molti casi se viene montato male perché l'aspirazione non basta prendere e attaccarlo non basta perché se è montato male si perde e non si acquista molte volte ho visto sul banco e ne ho avuto la riprova anche sulla Giulia che abbiamo fatto adesso che il rendimento è peggiorato quindi potete vedere e potete fare i vostri test che sicuramente avete un effetto placebo legato esclusivamente al fatto del sound oppure il rendimento sarà leggermente spostato verso l'alto ma molte volte si perde mentre con gli airbox a volte gli originali si ha un riempimento maggiore ed è più piena la macchina a tutti i regimi perderete magari forse un cavallo in alto sì però ne acquistate tantissimo di reattività ai bassi e medi regime quindi questo è molto importante per quanto riguarda invece l'airbox l'airbox invece tende a creare un rendimento differente perché? perché certo che c'è un'aspirazione diretta all'interno ma all'interno tende a creare all'interno di una camera i vortici che ci sono all'interno permettono di avere una certa ordine dell'aria quando viene aspirata e una certa volumetria se sicuramente il fatto di avere un condotto che penda aria fresca dalla parte anteriore ha il suo vantaggio ed è di fondamentale importanza quindi non c'è assolutamente da prendere sotto gamba dove aspirare aria fresca quindi anche se è in basso evitate le stupidaggini dette dai foro ma pesca acqua pesca acqua se acquistate dei prodotti buoni ok veramente buoni che abbiano una qualità quindi niente roba cinese o roba che costa veramente poco gli strati di cotone non è uno ma sono due o tre certo tenderà a fermare un pelo più l'aria però blocca anche più impurità questo ha vantaggio del fatto che magari potete prendere aria sul fendinebbia inferiore è chiaro che se mi prendesse entrate con tutto il muso dentro l'acqua ci saranno dei problemi ma sicuramente se piove o se sedete in una macchina dove l'asfalto è bagnato non avete queste problematiche quindi non fatevi queste pare nel dire no no non è possibile mi hanno detto mi hanno fatto che l'acqua si se usate roba cinese che hanno uno strato di cotone e quindi passa qualsiasi cosa però ricordate che se passa qualsiasi cosa tenderete anche a rischiare di rompere il turbo quindi fate molta attenzione alla roba di basso costo è chiaro chi cerca di sfruttare la vostra interesse o i venditori furbacchioni questo è un altro discorso che magari vi vendono un prodotto che costa 100 o ve lo fanno bagnare 300 questo è un altro discorso però sicuramente di andare su un taglio di fascia alta dei prodotti sicuramente è importante quindi sfatiamo il mito dell'aspirazione diretta che è quella che rende di più se non in alcuni casi particolari tipo quindi delle auto che fanno velocità e stanno sempre in piena quindi questo può essere utile o chi è che fa nel drag racing anche se se vedete nel drag racing fortunatamente non ci sono sassolini o altre cose non ci sono macchine davanti quindi spesso e volentieri capita di vedere solo delle retine davanti che tendono solamente a bloccare le cose più grandi ma altrimenti non mettono il meno possibile e l'airbox in carbonio comunque garantisce una pulizia del vano motore superiore personalmente li preferisco dove è possibile si utilizzano l'aspetto negativo lo svantaggio come tutti sapete è legato al prezzo che è ancora molto alto ecco perché molti tendono a riversarsi su quelli che sono quelli in plastica c'è da dire che la plastica anche se stiamo parlando di pvc che tende a tenere molto alte le temperature cioè che resiste a temperature molto alte potrebbe anche sbagliarsi quindi questo potrebbe creare delle aperture per far entrare qualcosa che può ordinare il debimetro o le nostre turbine quindi fate molta attenzione anche a questo il carbonio tende a sopportare molto di più le temperature e soprattutto è come vi ho detto prima molto leggero perché gli strati sono molto più sottili questo quale acquistare dipende solamente dalle vostre tasche e da chi avete di fronte a livello di suggerimenti quindi noi fino a un certo punto finché la scatola filtro o il litraggio della scatola filtro permette di non sostituire l'airbox tendiamo a mantenere sempre i componenti originali e sul proprio i componenti originali vi faccio riflettere visto che le auto devono avere dei costi sempre più bassi di produzione utilizzano il pvc non pvc o plastica che sia e non utilizzano il carbonio questo probabilmente vi può far capire la qualità e soprattutto l'esclusività di alcuni prodotti rispetto ad altri sicuramente il carbonio si può modellare molto di più e soprattutto ha delle forme particolari perché se si vedono gli airbox che vengono creati per la Toyota Yaris quelli che venivano creati sulle Saxo sulle C2 sono tutti roba in carbonio non sicuramente in plastica o meglio tutti i team che lavoravano che andavano veloci utilizzavano degli airbox in carbonio con un grande effetto venturi attraverso delle papere questo sicuramente porta a un grande vantaggio a riguardo quindi vi dico sinceramente che l'airbox in carbonio a mio parere è superiore a quello che è gli airbox in pvc o in plastica che siano quelli più in plastica sono solo quelli che vuole prendere un prodotto discreto a bassi prezzi l'aspirazione diretta è ancora più bassa come costo necessita comunque di diverse paratie perché può aspirare anche aria calda e su quello che aspira aria calda altra sciocchezza detta nei forum perché l'aria calda la può aspirare quando il motore è fermo se il motore va e fate una sorta di condotto anche da 50 mm la colonna d'aria che investe la macchina che entra in questo condotto va a investire il filtro dell'aria quindi il filtro dell'aria prende sempre aria fresca e le stupitaggini dette che prende aria calda vale solo se la macchina è ferma perché una volta che lei si muove si crea comunque un certo tipo di condotto per incanalare l'aria in frontale prende sempre aria fresca ok questa è un'altra sciocchezza detta dai minus quam dei forum che ripetono solamente alcune cose dette magari da altre persone che si riferivano a delle situazioni particolari e quindi non quello che viene detto sempre tutti i giorni quindi non credete mai a quello che dicono o almeno prendetelo con le pinze perché non sempre quello che viene inserito nei forum oppure detto ai bar corrisponde a realtà faccio un esempio banalissimo che veramente che vi può far capire sulla Lanza Revo invece che mettere un filtro a cono abbiamo messo un filtro dentro un airbox è un filtro a cono ma dentro un airbox della AEM che permette di avere un riempimento a tutti i regimi abbiamo fatto delle prove anche qui togliendo tutto l'airbox e lasciando il filtro a cono libero e abbiamo visto la perdita di 10 cavalli a parità di mappa e non perché smagriva che tutti inizierete a dire no perché non ha messo più carburazione in alto no non è perché smagriva perché comunque il sensore di battito non lavorava e quindi significa che la macchina era in carburazione anche perché c'eravamo lo stecchio elettrico dell'AEM quindi vedevamo quanto stavamo andando quindi non è assolutamente questo e doveva essere la carburazione un pochettino superiore perché leggermente magra visto che comunque quando noi facciamo le mappature tendiamo a essere molto grassi o meglio essere grassi quindi 14 a 7 indicativo solo esclusivamente ad appannaggio di motori che lavorano con 20 gradi in condizioni idilliaghe perché altrimenti nella realtà dei fatti si è sempre più in basso quindi dipende dal motore ma comunque si sta intorno agli 11 e mezzo 12 massimo 12 e mezzo quando inizia ad essere un pochettino magra e quindi non non avvalora assolutamente il discorso che veniva fatto che l'aspirazione diretta prende più aria stessa cosa è successa che abbiamo fatto dei test anche sulla Giulia 2000 turbo che adesso tra poco vedrete a brevissimo vedete anche i risultati quindi non è assolutamente vero quello che viene detto mentre tenendo la scatola filtro originale con un filtro a pannello sportivo il rendimento è stato superiore quindi personalmente non non condivido molto i filtri a cono se non in alcuni casi oppure magari si può prendere degli airbox in cui c'è all'interno un filtro a pannello verticale sono diversi l'abbiamo utilizzato con diciamo risultati molto incoraggianti vi aspetto alla prossima diretta se avete qualche domanda o volete un video in cui io parli di alcuni dubbi o alcune informazioni che voi avete percepito ma che volete approfondire scrivetemelo direttamente nei commenti e vi invito a seguire anzi vi invito dovete seguire i miei canali facebook instagram tiktok e youtube alla prossima diretta ciao